E facciamo un bel applauso alla nostra amica Fiorenza, dove è andata a finire? Ah è dietro là, non la vedevo più, e alle trivelle, giustamente o ingiustamente, tanto l'ora prima, avete visto anche voi, di qua, di qua, anche le due ragazze di Grosseto, che ora ritornano a Grosseto a piedi, giusto? È perfetto. Sarà Paolo Doccio, sarà a cambiarsi, sarà a correre un po', che ne sarà lì? Ah, proprio, giustamente.